E' appena il quinto anno di vita, ma è già un evento capace di catalizzare le presenze di residenti e visitatori. In piazza del municipio di Montecchio torna Vallefoglia d'autunno con la mostra a mercato delle tipicità locali pronta ad iniziare i palati nelle giornate del 5 e del 6 di ottobre. Naturalmente è una mostra a mercato, quindi si parla di prodotti del territorio, melograno, miele, funghi, tartufo, perché sì, Montecchio è la nostra zona industriale, però è anche una zona agricola, boschiva. Come proloco porteremo la nostra specialità che è la polenta, in questo caso faremo la polenta con i fagioli, che è proprio la prima cosa che da quando è nata questa sagra eravamo partiti solamente con quella, poi dopo abbiamo fatto altre specialità, però la nostra madre è quella, insomma, la stella polare è quella. E quindi la gente potrà pranzare e cenare sia sabato che domenica, inoltre sia sabato che domenica verso le 19 daremo un assaggio di polenta gratis a tutte le persone che saranno in piazza praticamente. Ci sarà il tartufo, ci sarà il melograno, l'olio d'oliva, ci saranno i prodotti locali come il miele, ci sono tutti prodotti tipici locali e poi ecco l'obiettivo è quello di far diventare anche l'enogastronomia, diciamo l'ambiente, il paesaggio, la storia e l'agroalimentare, è un perso dell'economia di una città che pur rimane una città industriale, perché la parte alta del territorio c'è un ambiente ancora incontaminato, si mangia da Dio e c'è una storia antica, insomma.